...battibilità esterna, ma soprattutto il comando della classifica. Zoff, dal canto suo, ha visto interrompere una serie positiva senza subire gol che durava da 461 minuti. Certo, la Roma ha toccato bene, ha vinto meritatamente, noi non è che possiamo recriminare su niente. La partita è andata così e nel calcio succede anche questo, che poi, in fondo, è una partita di calcio, ha un vinto all'orba che sono stati più bravi. Qualcuno ha parlato di fuori gioco in occasione del primo gol? Ma io sono almeno indicato a parlare, io li ho visti che erano soli, però non so quando sono scattati loro. E le responsabilità di Zoff sul secondo gol? Adesso andiamo sempre alla ricerca delle responsabilità, io penso che... Lei si aspettava che Prati toccassero la parola? Sì, appunto, se era un gol imparabile era il secondo, anche se molta gente non capisce queste cose.